Nell'auditorium delle scuole Gramsci Keynes a Prato si sta lavorando per una cena particolare, una cena non di gastronomia si tratta, ma di uno spettacolo sulla famosa cena delle beffe del pratese Sembenelli, musicata da Umberto Giordano, che è in scena attualmente alla Scala di Milano. Anche noi andiamo alla Scala di Milano domenica 10 aprile con una rappresentanza di ragazzi di tre istituti, il nostro, il Gramsci Keynes, il Dagomari e il Marconi, accompagnati ovviamente dai loro professori. Il progetto è all'interno di un percorso che i ragazzi fanno di avvicinamento alla musica, alla musica d'opera in particolare, perché crediamo fermamente che trovare emozioni forti nella musica sia importante nella costruzione della personalità dei giovani. L'occasione di avere un'opera scritta da un nostro concittadino rappresentata alla Scala di Milano è un'occasione poi ulteriore di orgoglio da una parte e un'esperienza che credo possa rimanere nella vita, nel mondo dei ragazzi che andranno a Milano per sempre. E lo prepariamo con un evento straordinario al nostro istituto, si svolgerà martedì 5 alle ore 21 e sarà aperto a tutta la cittadinanza in cui ci avvicineremo a questa opera, cercheremo di capirne i segreti, i motivi e la storia con un evento, uno spettacolo messo in scena in maniera del tutto volontaria e gratuita da un gruppo di appassionati d'opera.